Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. Sulla 1 in direzione Bologna ci sono code a tratti per traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il Bivio per la variante di Valico. Sulla Fibili per intervento di ripristino frana chiusura dell'uscita verso via Quaglierini in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata e il restringimento di carreggiata tra San Casciano e l'allacciamento per la 1 di Firenze in pruneta. La statale 64 Porrettana è chiusa tra Pavana e Ponte della Venturina a causa di una frana. Sulla regionale Due Cassi ha senso unico alternato il restringimento di carreggiata per lavori all'altezza del chilometro 268 nel comune di Barberino Tavarnelle. Buon si Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio! Buon viaggio!